Mixcloud è sempre più il servizio adatto per chi vuole pubblicare i propri DJ set, con alcune novità molto interessanti cerca di superare il periodo della quarantena fornendo delle nuove funzionalità e nuovi servizi per tutti gli utenti. Prima di proseguire con il video ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Abbiamo parlato da tempo di dove e come pubblicare un podcast del confronto tra Mixcloud e Soundcloud e adesso è arrivato il momento di continuare a parlare di Mixcloud proprio per le novità sopraggiunte a seguito del periodo della quarantena. Premetto che non sono sponsorizzato in nessun modo da Mixcloud. In molti mi chiedono qual è il posto migliore per pubblicare i propri DJ set e come farlo. Ecco che può essere interessante parlare di quelle che sono le novità di questo periodo che vengono proprio da Mixcloud. Innanzitutto hanno aperto ai live streaming ovvero è possibile pubblicare un DJ set live su Mixcloud. È stato un servizio molto utilizzato durante la quarantena data la mancata possibilità di fare le serate. Di contro in tanti hanno subito dei blocchi del copyright da parte soprattutto di YouTube e di Facebook. Invece Mixcloud non ha questo problema perché da sempre concede la possibilità di ripartire i brani ai proprietari dei diritti d'autore semplicemente segnando il titolo e dell'artista. Ad ogni cambio di traccia durante il DJ set dai il titolo corretto e se il brano viene suonato e ascoltato molto una parte degli introiti va al proprietario del brano. La possibilità di fare il live streaming diventa veramente la soluzione ideale perché concede questa possibilità a chi fa DJ set e toglie il problema del diritto d'autore. Allo stesso modo in questi mesi è stata introdotta la possibilità di sottoscrivere una specie di abbonamento al proprio DJ preferito ovvero te DJ che pubblichi musica puoi chiedere una quota associativa a chi ti segue magari pubblicando dei contenuti in esclusiva e così come invece chi ascolta può scegliere di dare dei soldi in qualche modo a colui che fa della musica che gli interessa. È un modo per poter andare incontro anche in questo caso alla mancata possibilità di fare serate e che ha generato di conseguenza un mancato guadagno per chi faceva il DJ qua e là. Questi servizi sono accessibili se hai un abbonamento Mixcloud Pro ovvero se paghi una quota te come utilizzatore per poter pubblicare la musica. Questa in passato forniva la possibilità per esempio di avere delle statistiche più approfondite e anche una maggiore diffusione del proprio DJ set però adesso è diventata veramente un'opportunità interessante anche perché in seguito alla quarantena Mixcloud ha deciso di dare tre mesi gratuiti di prova così per 90 giorni puoi testare il servizio vedere se fa al caso tuo e solo dopo iniziare a pagare la quota Mixcloud. Quota che però potrebbe essere coperta da chi ti sostiene. Tutte queste iniziative rendono ancora di più appetibile l'utilizzo di Mixcloud e lo ritengono con maggior ragione il posto ideale per pubblicare proprio il DJ set che sia non meno in live streaming. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continua a seguirmi qui su Essere DJ Oggi. Grazie a tutti.